Sindaco Figliolia, l'amministrazione comunale poteolana ha l'obbligo di informare i cittadini sulla situazione del bradesismo attualmente. Com'è in questi giorni la situazione? Come ha detto l'osservatorio abbiamo avuto nel 2012 una sequenza di un sollevamento di circa un centimetro e mezzo, c'è stato un picco nel mese di dicembre 2012 di 3 centimetri, oggi siamo in una fase di stallo dove c'è stato un fermo nel sollevamento, nel contempo noi siamo attenti a valutare le questioni che possono emergere, stiamo preparando il nostro piano di protezione civile, stiamo organizzando il CEM, il centro di protezione civile territoriale, siamo pronti per affrontare con la popolazione, con i dirigenti scolassi, con il mondo imprenditoriale il fenomeno con la massima serenità e con la tranquillità per dare garanzie e risposte alla città. Insieme all'osservatorio Vesuviano stiamo organizzando una serie di eventi per spiegare ai cittadini, alla città, al mondo imprenditoriale, al mondo scolastico, il fenomeno, le eventuali criticità e quale sarà il comportamento che dobbiamo avere noi come amministrazione, i cittadini, la scuola, ognuno per le proprie responsabilità. Sindaco, può dirci più o meno quando sarà pronto il piano di protezione civile da parte del Comune, fermo restando che la protezione civile nazionale deve adottare il suo piano? Noi penso che nell'arco di tre o quattro mesi saremo pronti con il nostro piano comunale, ma come lei ha spiegato il piano di protezione civile comunale deve essere collegato al piano di protezione civile nazionale e regionale. Spero che insieme al Dipartimento di protezione civile nazionale riusciamo a fare un lavoro di sinergia rispettando i territori, coinvolgendo i territori per trasmettere insomma serenità e tutto quello che ne può derivare. La cosa che insomma mi rende sereno è che questa città, i cittadini putiolani, hanno già fatto un'esperienza di evacuazione, che è quella del 1985. Come tutti ricorderanno, è un'esperienza che secondo me e secondo noi putiolani ha insegnato, quella è un'esperienza di evacuazione della città del perimetro del centro antico storico. E quell'esperienza penso che al cittadino ha insegnato che cos'è il bradesismo, che significa la parola bradesismo, quali sono le conseguenze della criticità, i sciamesismi, dove possiamo arrivare e che cosa comporta il fenomeno organico.